Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con ConfCommercio Notizie. A febbraio, secondo gli indici diffusi dall'Istat, il clima di fiducia dei consumatori scende per il secondo mese consecutivo, passando da 108,6 a 106,6, mentre per le imprese si registra un miglioramento della fiducia nel settore manifatturiero, l'indice passa da 105 a 106,3 e nel commercio a dettaglio da 103,4 a 108,5 a relativo indice. Nei servizi l'indice passa da 105,4 a 105,5 e nelle costruzioni rimane stabile a quota 123,9. Per essere al fianco dei propri associati sul fronte dei risparmi e degli investimenti, ConfCommercio Vicenza ha attivato lo sportello di consulenza finanziaria a cura di Banca Mediolanum, primario istituto di credito nazionale che mette a disposizione gratuitamente i propri consulenti per un supporto competente ai nostri soci. La banca offre così a tutti gli associati, ConfCommercio e i 50 e più della provincia, una consulenza finanziaria personalizzata che permette all'imprenditore di avere gli elementi fondamentali per prendere decisioni ponderate sui propri investimenti in base alle proprie esigenze, alla propensione al rischio e ai programmi futuri. Allo sportello si può accedere al suo appuntamento telefonando allo 0444 96 43 00 ed è operativo il mercoledì dalle 15 alle 18. Un franco bollo con un bel piatto fumante di Baccalà alla Vicentina verrà emesso da Poste Italiane il primo marzo, anniversario dei 30 anni dalla fondazione della confraternita del Baccalà. Un riconoscimento che valorizza e dà visibilità ad un'eccellenza gastronomica del territorio. Ascoltiamo le interviste. Il primo marzo è un appuntamento importante per il vicentino e per gli appassionati di filatelia. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha infatti accolto la richiesta partita dalla confraternita del Baccalà alla Vicentina ed emetterà un franco bollo per celebrare una ricetta che ha alle spalle almeno 400 anni di storia. Una vittoria del territorio e della vicentinità, spiega Luciano Righi, presidente della fondazione e ispiratore dell'iniziativa. La coincidenza meravigliosa veramente è che il franco bollo esce il giorno di fondazione del Baccalà alla Vicentina che è nata a Sandrigo come confraternita il primo marzo 1987. Il franco bollo esce il primo marzo 2017, quindi esattamente nei trentennali di fondazione. All'ufficio postale di Sandrigo in quello centrale di Vicenza il primo giorno sarà possibile avere anche l'annullo speciale vera chicca per i filatelici. Il risultato è stato il frutto di quasi due anni di lavoro e per ogni affermazione portata al Ministero è stato necessario anche fornire documenti storici. Una grande fortuna è stata, per esempio, aver scoperto una ricetta che è esattamente uguale a quella che è stata depositata in Camera di Commercio e che quindi è quella che caratterizza oggi la ricetta Baccalà alla Vicentina con C solo, tra l'altro. Il franco bollo mette un C solo, quindi con la terminologia classica della lingua veneziana è del nostro dialetto veneto e questa ricetta risale dal 1800 e di una famiglia, un casato nobile, la famiglia Endric. Nel folder preparato per l'emissione di appassionati troveranno anche una cartolina di Galliano Rossetta, la scheda tecnica, la descrizione storica. Questo sarà sicuramente uno dei francoboli più ricercati da parte dei collezionisti ed è anche un bel modo di raccontare una bella eccellenza del nostro paese. Io immagino che andrà a ruba, noi ci aspettiamo che ci sia anche una bella risposta da parte non solo dei collezionisti ma anche dei vicentini perché, insomma, io credo che sarebbe bello che ognuno dei vicentini acquisti un francobollo e torni a scrivere con la sua mano, con la sua penna, un pensiero, un messaggio, un biglietto a un amico che magari è lontano per far conoscere questa bella eccellenza. Ed ora l'intervista a Renato Rizzardi che abbiamo incontrato durante il primo workshop 2017 dell'iniziativa alle 5 stagioni della cucina vicentina. Il noto chef vicentino ha dato dimostrazione nelle cucine dell'Università del Gusto sul come valorizzare uno dei prodotti tipici del territorio berico, il broccolo fiolaro di Creazzo Deco. Il broccolo fiolaro è un prodotto invernale che si presta benissimo all'utilizzo in diverse preparazioni. I prodotti tipici, i cosiddetti prodotti che poi possono essere gli unici reali a chilometro zero, devono far parte assolutamente della nostra cultura gastronomica e della cultura gastronomica di noi cuochi. Perciò dobbiamo lavorare per inserire nei nostri menù quanto più possibile questi prodotti. A me piace molto lavorare ad esempio con la polenta, perciò il mais marano, formaggio asiago, non soltanto nella versione fresca ma in tutte le sue diverse stagionature. Il broccolo fiolaro di Creazzo. La cucina è sempre alta intanto quando è fatta bene. Ricordiamoci che mangiare bene non è una necessità ma è una ragione di vita. Il prossimo weekend torna al Foro Boario Vicenza Agri, la fiera dedicata all'agricoltura, all'allevamento, al giardinaggio per professionisti ed appassionati. Vicenza Agri, la più grande fiera del Vicentino dedicata alle macchine ed attrezzature agricole, il bosco ed il giardino sarà protagonista al Foro Boario sabato 4 e domenica 5 marzo dalle 9 alle 18.30. La manifestazione ad ingresso gratuito richiama ad ogni edizione oltre 10.000 visitatori e compie quest'anno 18 anni e si avvia quindi alla piena maturità con un ruolo ben preciso di punto di riferimento per gli agricoltori, gli allevatori, i contoterzisti, professionisti del giardinaggio ed appassionati della campagna e dell'orto di tutto il Veneto. Ma anche per tante famiglie che portano i loro bambini a vedere da vicino gli enormi trattori, gli animali di allevamento e tutto quanto ruota intorno all'affascinante mondo dell'agricoltura e del verde. Vicenza Agri è anche l'evento di punta dell'Associazione Provinciale Macchine ed Attrezzi Agricoli e Boschivi della Conf Commercio di Vicenza che ne cura l'organizzazione. In un'area di 9.000 m2 nei due giorni di fiera si potrà ammirare quanto di più innovativo offre la tecnologia dedicata all'agricoltura, all'allevamento e al giardinaggio, dai trattori ai tosaerba, dalle mietiterebbie al vasto mondo delle attrezzature del fai-da-tè. 51 le dita espositrici, prevalentemente della provincia di Vicenza, un insieme di professionisti che oltre ad esporre macchinari e tecnologie, offrono consulenza sulle nuove tecnologie e si pongono a fianco delle aziende del settore per migliorare lavoro e risultati. Grazie a questo evento, ogni anno l'Associazione Provinciale Macchine ed Attrezzi Agricoli e Boschivi della Conf Commercio di Vicenza, spiega il Presidente Luigi Bassanna, centra l'obiettivo di dare agli operatori del settore un momento di aggiornamento pratico, diffondendo le più moderne tecniche di coltivazione e trattamento dei prodotti agricoli. Investire per introdurre maggiore efficienza ed innovazione nel lavoro quotidiano, nei processi produttivi, nei prodotti e nell'organizzazione aziendale, rimane sempre l'azione fondamentale per poter garantire un futuro alle aziende del settore, nonostante le difficoltà che tutti quanti conosciamo. Per tutta la durata della fiera, l'esposizione di macchinari e tecnologie per l'agricoltura, l'allevamento e il giardinaggio sarà affiancata dalla mostra regionale e vetrina Italia Leva, a cura dell'Associazione Regionale Allevatori del Veneto. Vicenza Agri si completa con un'ampia area riservata a giardinaggio, un comparto in grande espansione e che accomuna sia coloro che si occupano professionalmente di green sia gli appassionati del verde, spinti dall'amore per la natura e verso un lavoro di contenuto ecologico. Tutte le informazioni su Vicenza Agri e l'elenco degli espositori sono consultabili sul sito internet della manifestazione www.vicenzaagri.it Esac Formazione Un centro innovativo per costruire professionalità nel settore del terziario, sviluppare cultura del lavoro, trovare nuove idee per affrontare le sfide del cambiamento. Scopri l'ampia offerta di corsi sul sito esacformazione.it o vieni nella nostra sede a Creazzo Vicenza in via Piazzon 40. Esac Formazione Dà energia al tuo futuro Ed ora la formazione Esac Formazione propone dal 6 al 20 marzo il corso di 15 ore per sviluppare un piano efficace di marketing delineando obiettivi, strategie e strumenti concreti per agire sul mercato. Dal 6 al 16 marzo invece il corso BSocial 2 per sviluppare una coordinata ed efficace azione di marketing su Facebook, Instagram e Pinterest. L'Università del Gusto propone il 15 marzo il corso sulla pasticceria salata dal brunch all'aperitivo con lo chef Andrea Valentinetti. Infine il 16 marzo l'emozione in un boccone, ovvero tecniche e regole per finger food innovativi con i segreti dello chef Gianluca Tomasi. Ed ora l'agenda. Lunedì alle ore 13 incontro dei presidenti delle delegazioni comunali del mandamento di Arzignano. Mercoledì alle 20 e 30 consiglio dell'Associazione Ottici Optometristi della provincia di Vicenza. Giovedì alle 13 e 30 consiglio della sezione territoriale 1 di Vicenza. Sabato alle 9 apertura di Vicenza Agri 2017. E per quanto riguarda questo appuntamento con CovCommercio Notizie è davvero tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domenica prossima. Arrivederci e buona settimana. Grazie a tutti.